vi siete mai chiesti come nasce veramente la maschera di un serial killer in un genere slasher vi siete mai chiesti per caso come e se il serial killer sceglie le proprie vittime e se le sceglie come fa in modo che queste arrivino proprio sul suo luogo di origine così poi da essere carne da macello perché sarà killer sceglie sempre una ragazza virgine perché questa rimane sempre e dico sempre a viva fino all'ultimo queste sono domande che un po tutti noi fan dell'horror e soprattutto del genere slasher ci siamo sempre posti senza mai trovare alcuna risposta se non appunto le regole del gioco gli stereotipi che il cinema horror ha costruito nel tempo ma c'è un film che ha tentato di dare risposta a tutti questi quesiti stiamo parlando di behind the mask the rise of leslie vernon film del 2006 diretto e scritto da scott glosserman ma ora banda le ciance e partiamo subito dalla trama siamo in un universo dove convivono freddy krueger jason burris e michael myers e questi sono veramente esistiti e hanno veramente compiuto quei massacri una troupe di giovani studenti del liceo decide quindi per un progetto scolastico di realizzare un documentario su come nascano questi serial killer e proprio perché si mettono a uccidere così le persone per fare questo contattano un potenziale serial killer una persona che ha deciso di fare questo di messa e di diventare un'icona dell'horror per questo si dirigeranno verso casa di leslie vernon un ragazzo che appunto fanatico dell'horror deciderà di diventare un serial killer e mostra questo come un vero e proprio lavoro quindi mostrando alla troupe come lavora come crea il suo personaggio come sceglie le vittime e come poi andrà a creare la mattanza un progetto scolastico che però piano piano si trasformerà in un vero e proprio film dell'orrore dove gli stessi della troupe diventeranno anche le vittime di leslie vernon il mockumentary diretto da scott glosserman prende forza da quell'impito che ha avuto appunto il mezzo del mockumentary dal grande successo che nel 1999 esplosa in tutto il globo col nome di bear which project di lì in poi il mockumentary è diventato parte integrante del cinema horror grazie alla sua forza di proiettare direttamente lo spettatore dentro la pellicola e soprattutto per ragioni puramente di produzione perché è un genere che si fa a bassissimo budget e da bear which project ne abbiamo visti tantissimi di film dell'orrore girati in questo modo alcuni più riusciti mi viene in mente la saga di rec diretta da papo plazza che è una serie che comunque riesce a mantenere diciamo a parte alcuni capitoli le proprie ragioni di esistere di incutere veramente terrore allo spettatore altri meno riusciti come la saga di paranormal activity che dopo il primo capitolo non ha saputo praticamente dirci più niente o altri più dimenticabili come i due esp questo invece lo collocherei sicuramente tra quelli riusciti perché la genialata del buono scott glosserman è quello di sfruttare tutte le tematiche del horror mockumentary per creare un vero e proprio documentario su come creare un film slasher prende quindi tutti gli stereotipi dei film di saghe famose come verdi 13 nightmare oppure halloween li butta in un calderone ma le rielabora sebbene tutti i personaggi che incontriamo sono appunto degli stereotipi che abbiamo già visto all'interno del cinema dell'orrore questo film tente a discardinarli uno dopo l'altro e non è un caso che noi appunto assistiamo alla genesi della nuova maschera dell'horror Leslie Vernon che in realtà è semplicemente questo ragazzo che ha dei seri problemi psichici che vuole emulare le cone dell'horror ma questo viene presentato come un vero e proprio lavoro come qualcosa di necessario come se l'umanità avesse bisogno dell'incarnazione del male per far trionfare il bene e non è un caso che questo venga considerato un lavoro dal momento in cui la stessa troupe riesce a intervistare un altro killer un ex serial killer o meglio che ormai è andato in pensione e che uccideva tra gli anni 50 e 60 dai dialoghi con questo attore che appunto fa questo ex serial killer che poi è anche un po' il mentore di Leslie Vernon il regista tenta di fare un gioco di strizzare l'occhio allo spettatore fanatico dell'orrore mostrando come una volta nei film più vecchi appunto degli anni 50 e 60 c'erano già presenti i germi dello slasher che vengono rappresentati da questo ex serial killer in pensione che però sono diversissimi rispetto agli slasher moderni pensiamo per un momento a Psycho il capolavoro di Alfred Hitchcock in quel film ci sono già alcuni semi del genere slasher o pensiamo all'italianissimo 6 donne per l'assassino di Mario Bava o reazione a catena sempre dello stesso Mario Bava già in quei film lì che sono precedenti a capolavori del genere come Black Christmas di cui potete trovare qui la recensione oppure altri film venuti dopo come Halloween, Nightmare on Elm Street oppure Verdi 13 si vede proprio una totale differenza tra un killer come può essere Norman Bates o un killer sadico come può essere per esempio Michael Myers della saga di Halloween due diversi modi di fare il cinema, due diversi modi di renderlo orrore che sono completamente mutati e che ci vengono mostrati in queste simpatiche scenette dove appunto Leslie Vernon, giovane assassino in erba prende però spunto dalle vecchie tecniche del vecchio serial killer in pensione che tra l'altro dà anche allo spettatore, strezzando più volte l'occhio in camera dei preziosi consigli per esempio come sfuggire a un killer che li sta inseguendo l'unico modo è correre più veloce possibile trovare qualcuno più lento di te che vuole fare l'eroe avvisare che c'è una minaccia e correre ancora così il killer si concentrerà su quest'ultimo mentre tu forse riuscirai a fuggire il più lontano possibile dalle minacce di questi killer in più il film si diverte si diverte citando tutti i film slasher horror più famosi che lo spettatore ovviamente più accanito fan dell'orrore riesce a riconoscere e in più dà anche qualche stile tata all'industria cinematografica dicendo per esempio che tutti i serial killer moderni continuano e continuano e continuano a ritornare sulle proprie scene del crimine mentre quelli vecchio stampo scappavano il più lontano possibile come a dire hey Hollywood perché stai facendo tutti questi sequel? ovviamente per i soldi è così secondo il parere di Leslie Vernon e del suo amico Sarah Kilder che sono arrivate le saghe horror al cinema la cosa però ancora più divertente del film è che si alternano varie sequenze abbiamo sequenze girate con macchina a mano quindi tipiche del mockumentary di quel linguaggio che si alternano a vere e proprie sequenze di film girate dal regista stesso e inserite nel film come se già nel meta slasher ci fosse il meta cinema un meta meta slasher passatemi il termine qui noi abbiamo questo cambiamento di stile da un momento all'altro quindi da mockumentary a vero e proprio film dell'orrore film slasher dove loro mai grado si ritroverà anche la troupe che deciderà di mettere bastoni fra le ruote Leslie Vernon per fermare il suo massacro una delle prime regole che ovviamente il Sarah Kilder ha chiesto alla troupe potete seguirmi potete vedere i miei omicidi che lui reputa anche delle opere d'arte cioè c'è tutto un ragionamento dietro al suo perché fa questo ma la cosa importante quando voi vedete quelle cose che sono ovviamente cose ributtanti non dovete assolutamente intervenire se no il tutto va in fumo io devo ricominciare da capo e ovviamente la troupe vedendo le prime vittime non starà ferma ma interverrà e questi li porterà a essere protagonisti dello stesso slasher creato da Leslie Vernon un gioco di specchi un gioco di rimandi tra varie saghe diverse che però coesistono nello stesso ambiente in cui è ambientato questo mockumentary giochi di scatole cinesi dove i vari linguaggi del mockumentary e del cinema classico si mescolano per dare origine a un mockumentary dai toni comici dove però attenzione non manca il sangue e la violenza perché nella parte finale diventando un horror slasher canonico diciamo il tutto prende ovviamente una piega molto molto più splatter ma comunque divertente strizzando varie volte l'occhio allo spettatore infrangendo i vari stereotipi dei personaggi come poi farà anche più avanti un altro grande film horror che decostruisce il genere che è quella casa nel bosco lasciando lo spettatore in un continuo stato tra ansia e divertimento totale si alternano infatti scene di sequenze raccapriccianti ma edulcorate da altre scene che invece appunto giocano col metacinema giocano col genere per far ridere tutti gli amanti più strenui del genere horror un film assolutamente consigliato che nella sua ora e mezza di durata riesce a divertire ma anche a far riflettere su un intero genere ah e in più mi sono scordato di aggiungere c'è un grandissimo Robert Englund che fa uno dei ruoli più stereotipati del cinema horror e che soprattutto strizza a un famosissimo personaggio di una famosissima saga horror e ovviamente non è Freddy Krueger la recensione finisce qui guardatevi assolutamente questa perla a me è stata consigliata dal mio grande amico Dante Lucifero che saluto e ringrazio veramente tanto perché questa è una perla che è rimasta nascosta ma che potete trovare su Amazon Prime Video quindi se avete l'abbonamento perché no perché non guardare questo simpaticissimo film dell'orrore io vi ringrazio veramente tanto per essere rimasti qua ad ascoltarmi per così tanto tempo io vi invito come sempre se il video vi è piaciuto a mettere mi piace a iscrivervi al canale e a seguirci su tutti i nostri social che trovate qui sotto nell'info box Twitter Letterbox Instagram e Facebook per restare aggiornati su tutti i nostri progetti futuri quindi a me non resta che dirvi buon cinema a tutti quanti e ovviamente ci vediamo a un prossimo video grazie a tutti grazie a tutti